Io vorrei un applauso infinito per Luca Guenna che è qua con noi ed è il motivo per cui siamo qua veramente. E poi prenditi l'applauso. Due menti, due cuori e una forza di volontà infinita. Un applauso a Woody Stock. Alleluca. Volevo dire due parole e vi ringrazio moltissimo per la vostra presenza che è importantissima perché proprio due parole sul Parkinson. Me ne frego assolutamente di questa cosa. Grazie a voi. Non è solo la ricerca, è la voglia di combattere, di vincere. La voglia di fare le cose insieme, di fare musica rock e roll insieme. Questo è una vera cosa che ha avuto. Grazie ragazzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.